ciao a tutti e benvenuti su azzala channel oggi siamo qui con questo video speciale come avevo annunciato sulla mia pagina facebook perché speciale perché come potete vedere non si tratta di the sims 4 ma di the sims 3 infatti un po di tempo che ci pensavo che volevo tornarci un po a giocare perché mi avrà venuta un po di nostalgia io praticamente da quando ho comprato the sims 4 quindi ormai sono un paio d'anni sono un paio d'anni che io non apro the sims 3 quindi ultimamente ci pensavo ma mi piacerebbe tornarci a giocare perché ci sono delle cose che mi mancano che non hanno ancora inserito con the sims 4 come ad esempio le stagioni gli animali varie cose che sicuramente inseriranno più la però ancora non ci sono quindi mi è venuta un po voglia di tornarci a giocare e quindi ho detto perché no proviamo anche a portare qualche gameplay sul canale per vedere se può piacere anche questa serie e faccio una premessa però che gli episodi di gameplay di the sims 3 saranno un po più sporadici rispetto a quelli di the sims 4 perché mentre quelli di the sims 4 escono di solito settimanalmente questi usciranno un po più di rado perché comunque purtroppo non ho molto tempo per registrare quindi quando mi metto a registrare preferisco comunque dare la priorità a the sims 4 anche perché in generale mi piace di più quindi questi saranno un po più sporadici usciranno magari ogni due tre settimane anche poi si vedrà anche come andrà questa serie perché se piace magari potrò pensare anche di fare un po più spesso gli episodi di farli uscire un po più spesso adesso vediamo un po come va ecco altra cosa qui come vedete siamo nel quartiere di appalusa plains che è quello che è stato aggiunto con l'espansione sugli animali e giocheremo quindi in questo quartiere e per quanto riguarda le espansioni io ce le avevo praticamente tutte però adesso non ce l'ho tutte attivate questo perché the sims 3 è un gioco piuttosto pesante quindi avendole tutte attivate il gioco rallenterebbe troppo quindi sarebbe anche fastidioso anche nei gameplay quindi diciamo ho deciso di lasciare attive solo alcune espansioni che sono quelle che penso utilizzerò di più per questa storia e quindi essenzialmente oltre al gioco base ho attivato quella sugli animali ovviamente poi stagioni ambition vita universitaria generation e basta e late night quindi sono queste sei espansioni le altre per il momento le ho lasciate da parte c'era ad esempio supernatural molto carina però va vista forse un po più a sé ecco a parte stessa cosa isola da sogno che mi sembrava un po più limitata nel senso che bisognava giocare nel quartiere che hanno aggiunto proprio con isolata sogno per vedere tutte le cose relative alle espansioni e giocando in quel quartiere però se ne perdevano altre di altre espansioni quindi ho preferito per il momento usare solo queste e poi magari le altre potremo vederle anche in altri momenti vedremo ecco quindi siamo ad appalusa plains io ho aggiunto alcuni lotti in modo da poter giocare il più possibile con tutte le espansioni ma poi li andremo a vedere piano piano mano a mano che porteremo avanti la storia intanto questa è la panoramica del quartiere vedete che è molto grande e e adesso vi farò vedere anche i sim con cui inizieremo a giocare io li ho già creati per cui andiamo al cron sim e ve li faccio vedere ve li presento eccoci nel cast di the sims 3 ora posso subito a presentarvi i sim con cui inizieremo a giocare cominciamo con lei visto che questa qui lei si chiama catrina winter è una giovane adulta questa è la sua immagine a figura intera ora ve la faccio vedere un po più in primo piano eccola qui e questo qui sarà il suo abito quotidiano non vi faccio vedere gli altri abiti qui nel cast semplicemente perché anche il passaggio tra un abito all'altro richiede un po di tempo perché ci vuole un po per caricare il passaggio per cui ve lo risparmio tanto comunque poi li vedremo tutti mano a mano che giochiamo vi voglio far vedere però un po come lei diciamo di carattere la sua personalità con dei sims 3 abbiamo la possibilità di scegliere cinque tratti inizialmente e per lei ho scelto amante degli animali i sim con il tratto amante degli animali adorano tutti i membri del regno animale con uno di vantaggi speciali quando interagiscono con loro poi distratta i sim distratti sono persi nei loro pensieri e a volte si dimenticano cosa stanno facendo o dove stanno andando eccellere all'università potrebbe essere impegnativo per questi sim poi abbiamo ecologica i sim ecologici preferiscono vivere risparmiando energia riciclando e seguendo una dieta ecosostenibile poi pollice verde i sim con il pollice verde sono i migliori giardinieri si sentono a meraviglia in giardino e sanno salvare anche le piante nelle condizioni peggiori i sim con il pollice verde godranno di vantaggi nel corso di laurea in scienze all'università infine timida i sim timidi non avvicinano mai qualcuno che non conoscono e tendono a restare in ambienti familiari le compagnie numerose li innervosiscono i sim timidi non dovrebbero puntare alla laurea in comunicazione all'università dei sim questo per quanto riguarda i suoi tratti poi come aspirazione vitalizia invece ho scelto questa la costruttrice di arche lei praticamente vuole riuscire ad avere almeno due gatti cani cavalli uccelli lucertole tartarughe roditori serpenti farfalle scarabèi quindi praticamente ama tantissimo gli animali e quindi vuole avere tutti questi animali in casa per cui questo sarà il suo obiettivo vitalizio gli animali non sono mai troppi più ne hai più sei felice e i tuoi animali sono d'accordo l'arrivo di un nuovo animale è un momento di gioia per la tua comunità alcuni sim pensano si tratti di un'ossessione malsana ma per te ogni sim un animale è il membro di una famiglia sempre più grande è abbastanza difficile come aspirazione quindi vedremo un po se riusciamo a portarla a termine comunque l'idea che avevo per lei era appunto quella di farla trasferire in una casa di campagna con un giardino molto ampio in cui prendere pian piano tutti questi animali e poi ho scelto anche per lei il tratto pollice verde perché la mia idea era quella di farla lavorare in quest'ambito nel senso piantare tutti i frutti le verdure quindi fare un orto e vendere i suoi prodotti con ambition infatti c'è la possibilità di far registrare sim come professionisti indipendenti in alcune cose e lei volevo farla registrata appunto come giardiniera mi sembra in modo che possa vendere i suoi prodotti quindi il lavoro per lei è un lavoro autonomo in un certo senso avevo questa idea poi vedremo magari può essere anche che cambierò idea per ora comunque così poi per quanto riguarda i suoi preferiti lei ama la torta di zucca la musica classica e il colore turchese e poi segno zodiacale bilancia quindi questo per quanto riguarda lei adesso vi faccio invece vedere lui lui invece si chiama sebastian man è un giovane adulto come lei e qui potete vederlo nel suo abito quotidiano adesso vi faccio vedere anche lui in primo piano eccolo qui un tipo niente male direi e poi vediamo un po la sua personalità allora abbiamo il tratto ama il freddo i sim che amano il freddo gradiscono il tempo geldo e possono restare fuori più a lungo prima di congelare poi ambizioso i sim ambiziosi sognano in grande stile e ricevono premi più consistenti quando i loro desideri vengono soddisfatti sono spinti a fare rapidamente carriera ma il loro umore si deteriora facilmente se non ricevono la promozione che desiderano i sim ambiziosi tendono ad eccellere all'università poi abbiamo amichevole i sim amichevoli amano essere circondati da amici ovviamente sono molto abili a stringere e mantenere amicizie quindi un po il contrario di lei invece è timida poi abbiamo atletico i sim atletici sono i migliori della città nelle discipline fisiche sono capaci di spingersi al limite meglio degli altri sim per il semplice gusto di farlo i sim atletici potranno di vantaggi nel corso di line educazione fisica all'università e ultimo tratto testa calda i sim dalla testa calda si irritano facilmente per farli inferocire bastano la rottura di un oggetto una conversazione che prende una brutta piega o semplicemente un malumore passeggero quindi un tipetto un po anche fumantino come desiderio vitalizio a diventare leader del mondo libero e bisogna raggiungere il livello 10 della carriera politica semplicemente semplicemente tra virgolette nel senso che bisogna fare solo questa cosa però non è tanto semplice quindi vedremo allora il leader del mondo libero deve essere un personaggio politico ricco di carisma e passione capace di racimolare ingenti somme per le proprie campagne è una posizione poco invidiabile che richiede di adattarsi continuamente a problemi inattesi il mondo attore ha bisogno di grandi leader e il tuo sim potrebbe diventare tale e vedremo se sebastian ce la farà per quanto riguarda i gusti il suo cibo preferente il rito è il toast francese gli piace la musica ladina e il colore verde prato come segno giudagale lui invece è dei pesci i segni giudagali servono un po anche per vedere la compatibilità tra sim nell'ambito delle relazioni amorose che è una cosa che invece ad esempio manca in the sims 4 ok detto questo vi ho presentato i sim con cui inizieremo a giocare al momento loro sono nella stessa unità familiare li ho messi insieme per semplicità per farveli vedere più velocemente ma in realtà giocheremo almeno all'inizio separatamente con loro quindi li metteremo in due casette differenti giocheremo un po di episodi con lei e un po di episodi con lui finché ad un certo punto le loro strade si incontreranno e vedremo che cosa succederà magari potranno continuare insieme formando una famiglia la mia idea era infatti questa cioè di farli vivere insieme farli fare una famiglia i figli eccetera però non volevo partire già con unità familiare formata direttamente da loro due ma volevo costruirla pian piano nel corso del tempo quindi giocheremo con loro separatamente e poi successivamente spero insieme per lui inoltre volevo iniziare a giocare mandandolo all'università quindi seguiremo in alcuni episodi lei che rimarrà qui ad Appalooza Blanes e lui che invece andrà in università fino a quando vedremo che succederà ecco ok direi che ho detto un po tutto vi ho presentato i sim con cui giocheremo spero che vi piaccia sia il quartiere e sia questi due sim con cui inizieremo a giocare e spero che il video vi sia piaciuto se è così mettete il like e ci vediamo presto nel prossimo video che sarà il primo video vero e proprio di gameplay uscirà subito questo cioè subito dopo questo perché comunque li ho registrati insieme quindi è come se fossero se fosse un unico episodio diviso in due solo che l'ho diviso per non farlo venire troppo lungo quindi il prossimo episodio uscirà subito dopo questo per cui ci rivediamo tra poco ciao